Però voglio spoilerare una cosa, Possio, siccome le risorse nel nostro territorio sono importanti e incredibili a livello nazionale, e la voglio dire che noi abbiamo adesso le elezioni di Pug per rifare il nostro abitato regionale, e vi presento i due consiglieri che stanno per fare questa kermess nei prossimi giorni, che sono proprio Raffaele Luciano, candidato, e quindi va un applauso a Raffaele, e a Raffaele, quindi saremo le due nostre eccellenze che non è che lasciano il territorio, assolutamente, anzi, ma daranno una forza ancora in più a quella che è la PIPA. E poi ringrazio chiaramente il consigliere regionale, attualmente in carica, che è Carmine Ricci, che ha una funzione importante per gli aspetti educativi, solastici, perché l'atletica è nelle scuole e ancora di più possiamo fare per amicinare le ragazze nostre. Quindi, grazie a tutti, mi sento divertiti da sopra, perché io vengo a Domenica, e in bocca a me per Domenica a tutti.